Allora ciao Rosario, ciao Elia, ho postato la telefonata con Giuseppe che ho fatto subito dopo che ci eravamo lasciati perché Giuseppe poteva registrare e devo dire che sono rimasto veramente contento della solidarietà che è arrivata perché ho subito visto la… Giustamente il video è stato ben fatto, hai fatto bene a organizzare velocemente una intervista relazionando su quello che era accaduto quella mattina e quindi hai anticipato i tempi rispetto a quelli biblici che erano miei perché ero rimasto diciamo bloccato così e il punto è che sulla base di uno psicoreato come giustamente hai detto tu nel video si è partiti con una operazione che io ritengo illegale ed illegittima di sequestro delle apparecchiature e degli hard disk con tutti annessi e connessi, cioè dentro in pratica c'è di tutto, ci sono le password, c'è tutto il lavoro di dieci anni, insomma i video, tutti i video che avevamo realizzato e che erano compresi in un hard disk di backup che veniva fatto automaticamente quasi tutte le sere dall'esterno e dall'interno della macchina, quindi hanno ottenuto quello che volevano, cioè a parte il fatto che il materiale di prova è tutto recuperato, ma i video che occupano una marea di spazio chiaramente c'era una difficoltà logistica nel farne un backup complessivo, periodico e continuativo per cui una parte è stata perduta, la più recente che era la migliore. Comunque detto questo l'intenzione di questi soggetti era evidentemente quella di innanzitutto cercare di farci fermare chiaramente levandoci il materiale utile per operare sulla rete e in secondo luogo, forse non lo metterei neanche in secondo luogo, ma lo metterei come primo obiettivo e quello sicuramente come già si capisce dal dispositivo di sequestro si spera di trovare qualsiasi tipo di materiale che non sia neanche attinente alla querela di parte, in modo tale che questi eventuali reati che possono essere, che ne so, un file mp3 oppure, non lo so, qualsiasi cosa che può essere sfruttata per poter impostare un altro rinvio a giudizio, insomma l'occasione è ghiotta, quindi sono presi tutti gli harddisk e anche il portatile e da lì poi, a parte il fatto che non so se riuscirò ad avere il materiale indietro, ne dubito, conoscendo l'ambiente so come funziona, ma detto questo il problema è che questi hanno tutte le buone intenzioni di farmi passare il resto della vita in galera buttando la chiave, l'occasione è quella. Ora, partendo da questo si arriva al dispositivo che è opera del pubblico ministero Maria Paola Marrali, anche in questo caso si tratta di una donna, ahimè, la quale scrive su querela di Massimo della Schiava, conosciuto come il Fioba, che dal 2007 ci diffama e ci calugna in tutti i modi, compreso il suo blog che è stato rilanciato poi dal noto Nigrelli che si fa chiamare Mario Lepuma su Inter. A noi ce ne dicono di tutti i colori, ce ne dicono di tutti i colori. Fanno quello che vogliono, tanto la magistratura li appoggia, è inutile ormai, è chiaro che non si tratta di coincidenze o di paranoia o di vittimismo, la magistratura appoggia questi tizi, il della schiava, è famosissimo per aver iniziato lui nel 2007 a diffamarmi telefonando al direttore di una radio locale toscana che aveva osato intervistarmi e lì cominciò, poi proseguì con la pubblicazione di un blog su piattaforma blogger dedicato al sottoscritto nel quale il post che impera sulla rete è trasferito ed è duplicato da Nigrelli come anche da altri debunkers, come amano chiamarsi loro, pagati dallo Stato evidentemente, questo articolo, chiamiamolo così, ma questa infamante pubblicazione sulla rete mostrava la mia carta di identità con la mia fotografia e fotomontati, il lavoro, la data di nacita, il luogo e via dicendo, per esempio il lavoro, truffatore, cose di questo tipo. È stato querelato, diverso tempo fa, perché comunque se la prendeva anche con mio fratello, senza nessun motivo ovviamente, pesantemente, il risultato è che la mia querela è stata insabbiata, è evaporata, io non ne ho saputo più niente, la querela mia e di mio fratello, mentre codesto della schiava Massimo va a chiedere aiuto dalla mamma e la mamma gli fa partire un sequestro di materiale a sottoscritto. In unione con Cilidina sulla torta, con la Giacomin Serena, che sarebbe una ragazza che lavora per Class Meteo e che si definisce scienziata e che ha intervistato diverse volte Timone Angioni del CICAP, nel quale ovviamente questo programma parlava di scie chimiche, dicendo che non esistono, che sono frutto della paranoia delle persone che loro che sono scienziati possono garantire che sono scie di condensazione. Io a proposito di quel video ne feci uno improvvisato come li fai tu, diciamo così, quindi presi il video alla buona e con la videocamera, quindi non è che copiai il video ma lo ripresi con la videocamera e commentai volta per volta con argomentazioni le cazzate che diceva questo personaggio Simone Angioni, aiutato dalla Giacomin Serena che si autodefinisce scienziata. Ok, se questo è il sunto, però il dispositivo dice, visti gli atti del procedimento indicato a margine relativo alle indagini preliminari nei confronti di Marciano Rosario e Marciano Antonio, sottoposti ad indagini per il reato di cui agli articoli 110 codice penale, 595 codice penale, commi 1 e 3 codice penale, quindi ci sono anche le aggravanti, rilevato che appare probabile che nei luoghi sottoindicati e o sulla persona degli indagati, cioè addosso, si trovi il corpo del reato, ma se venissero, o cose pertinenti ad esso. In vero gli accertamenti effettuati a seguito della presentazione di querela da parte di Giacomin Serena, che poco Serena è direi, e della schiava Massimo, che è schiavo purtroppo del sistema, hanno presentazione di querela da parte di Giacomin Serena, hanno evidenziato come gli indagati gestiscano un canale televisivo, che poi non è un canale televisivo, ma è un sito dove sono mostrati dei video, quindi il canale televisivo è diverso, e purtroppo non sanno nemmeno mostrare quello che vogliono scrivere. E alcuni blog attraverso i quali, trattando il fenomeno delle scie CD, scie luminose, qui perché non si vuole mettere in mezzo la questione scie chimiche, lei si sostituisce con la dizione luminosa e fare attenzione a come questi magistrati operano illegalmente, sequestrando per una diffamazione, il sequestro non si è mai visto, poi se c'è il sequestro sulla rete, io mi domando perché devi sequestrare materiale locale, perché se c'è una diffamazione, prima di tutto me la mostri nel dispositivo e mi fai una copia allegata o mi riporti quello che è stato testualmente scritto. Siccome a discapito di questi due personaggi non è stato scritto nulla di infamante, logicamente il magistrato non ha inserito niente. E quindi, prosegue, diffondono affermazioni gravemente offensive della reputazione, tra parentesi, anche dei querelanti, soggetti in possesso di titolo di studio e competenze specifiche nella materia menzionata. Quindi, attenzione, se io contesto qualcuno che è laureato, commesso reato. Stanno entrando nel merito dando già un giudizio su che cosa? Che cosa? Cioè, questo è addirittura adesso è perseguito il reato di opinione, perché qui si tratta di perseguire con un soppruso all'interno di un'abitazione con una persona anziana, entrando alle 7 di mattina e, tra virgolette, questi personaggi il giorno prima già postavano dei messaggi su Facebook che dimostravano che loro erano già al corrente che ci sarebbe verificata una perquisizione. E quindi, prosegue il magistrato, soggetti in possesso di titoli di studio e competenze specifiche nella materia menzionata, gli indagati risultano altresì titolari di numerosi siti utilizzati alle medesime finalità. Cioè, noi abbiamo dei siti, siamo titolari di siti che sono utilizzati per diffamare. Quindi potrei io denunciare per diffamazione il magistrato o colui che ha dato inizio a questa azione e sicuramente chiederò i danni nel caso in cui chiaramente si verificherà che non c'è alcun corpo del reato. Quindi prosegue che appare dunque necessario ricercare elementi a conferma della disponibilità da parte dei predetti dei siti canale televisivo a ridaglie sui quali sono comparse le affermazioni oggetto di querela. Verificare la sussistenza, qui la punteggiatura è scritta così, verificare la sussistenza di altri reati commessi con il mezzo della diffusione telematica, accertare l'esistenza di eventuali concorrenti. Ora, qui cosa significa? In queste ultime due righe si capisce che se, come è normale, in locale, sugli hard disk o sulle macchine sequestrate non si trova niente, il personale addetto alla perquisizione del materiale, allo spulcio del materiale dovrà cercare qualcosa che sia comunque perseguibile. Questo è altrettanto grave perché significa che qui vogliono mettere Marcianò dentro, buttare la chiave e levarselo dai coglioni, ma se lo scordano perché io non mi levo dai coglioni. Ordina la perquisizione personale, tu pensa? Addirittura, sapevano anche che di sotto abbiamo un locale indiviso, quindi hanno fatto una perquisizione anche nel garage e qui sicuramente la segnalazione è arrivata dai soliti personaggi perché non è che il magistrato sa che tu sotto hai un garage indiviso e che hai due vetture, quindi hanno perquisito le vetture, il garage e poi addirittura Dulcis in fundo hanno accompagnato mio fratello a scuola e hanno voluto visionare l'interno dell'armadietto, ma qui siamo all'epoca del nazismo, queste persone vanno prese e impiccate, non se ne può più, non se ne può più. Posso dire alcune cose Rosario? Prego, certo. Allora, sembra veramente qualcosa di allucinante, non uso il termine allucinante a caso, cioè il magistrato emette già un giudizio di merito su chi è competente e chi non è, ma qua si sta parlando di un presunto reato di diffamazione che tra l'altro, lo spettiamo, c'era stato da parte tua l'uso del termine grossolano, che vuol dire supersticiale, vuol dire qualcuno che non approfondisce delle cose, quindi arriviamo da un presunto reato di diffamazione ad entrare nel merito degli argomenti che voi affrontate e mettendo già un giudizio che non si sa bene sulla base di che cosa, su chi è competente e chi non lo è, cioè siamo veramente in qualcosa di assurdo, in qualcosa di assurdo, inoltre ricordo che, l'ho detto anche nell'audio precedente, lo dico ancora, in questo paese ci sono migliaia di cittadini che hanno denunciato penalmente le banche per usura, vorrei vedere un solo magistrato che si è mosso in questa direzione, sequestrando documentazione bancaria e quant'altro, in questo paese è stato denunciato il Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica per tutta una serie di reati contro la Costituzione, non si è mosso nessuno, questo è un paese in cui tu puoi fare tutte le denunce del mondo, in realtà, tanto non vengono neanche portate avanti, spesso, come è successo a me, tanti anni fa, sei invitato a ritirare la denuncia perché gli dicono che gli uffici giudiziari sono strapiene, non c'è nessuna possibilità, per una roba del genere che non so neanche, anzi non è, certamente diffamazione, qua mi pronuncio io, le metto io, comunque un giudizio, sono laureato in legge, qualcosa ci capisco, ci muove un magistrato con un dispiegamento di forze, sono venuti in cinque o sei, veramente assurdi, si può dire, cavolo possiamo almeno avere il diritto di dire che c'è qualcosa di veramente mostruoso che è accaduto, ma tu considera che poteva venire anche un infarto a mia mamma che si è spaventata e si è trovata cinque persone in casa, purtroppo, voglio dire, sei costretto in quei casi ad aprire, ma potrebbe essere chiunque. Comunque Rosario, il ribendo è che immediatamente, in quanto fatto ieri, quell'audio fatto con Giuseppe Velociamento si sta diffondendo, sta arrivando tantissima solidarietà, stamattina mi ha chiamato anche Mazzucco che ha pubblicato sul suo sito sempre quell'audio di ieri, Gianni Lannes ha scritto un articolo molto chiaro. L'ho letto, bravo. Quindi vuol dire che quando questo sistema comincia veramente ad esagerare in maniera palese, evidente, come in questo caso, insomma qualche coscienza comincia a muoversi. Io ho ricevuto una tele per conoscenza di intimidazione, perché tale è, oltretutto da questo signore che non si firma, non si sa chi è, tu lo sai, ma io non so, non voglio dire in questo momento chi è, e praticamente mi denuncia alla polizia postale. Vuol dire, Rosario, scusa, che qualcosa si sta muovendo e una certa paura a certi signori comunque gli sta prendendo. Quindi, un'altra cosa, mi ha chiamato un deputato, un deputato giovane, non faccio il nome, per dirmi che cosa possiamo aiutare, se possiamo aiutare, magari Marcello, perché è chiaro che c'è qualcosa in questa storia che non va. Ricordiamo agli ascoltatori che io sono già oggetto di due processi farsa, anche questi costruiti a tavolino con le segnalazioni dei soliti soggetti, che sono protetti dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, e per cui adesso, tra una cosa e l'altra, avremo quattro o cinque procedimenti da seguire e da subire. Non è una passeggiata da un punto di vista dei costi e soprattutto il problema non è tanto quello, ma il fatto che se non si trova un avvocato con le palle, con gli attributi, qui finisce veramente male, perché è chiaro che i Marciano danno fastidio. Ricordo che mio fratello sabato scorso per un pelo non ci ha rimesso le penne per uno scontro frontale voluto, perché lo hanno atteso dietro a una curva di una rotatoria per un frontale, per cui se l'è cavata danneggiando gravemente l'auto, ma per fortuna non si è fatto niente. Ricordiamo gli articoli diffamatori su ordinazione scritti da Marco Preve e da Maurizio Vestari, se non ricordo male il nome, quindi sulla stampa e sulla Repubblica, ormai abbiamo capito che il sistema deve far fuori i Marciano a tutti i costi, quindi costi, quel che costi, non sono servite le minacce, non sono servite le diffamazioni e adesso usano magistrati conniventi e consenzienti che appoggiano delinquenti di massima eloquenza che da anni operano con diffamazioni di ogni tipo sulla rete in maniera impunita, che hanno ricevuto querele su querele e sono evaporate. E ora di finirla, io mi sono rotto le balle e mi rifiuterò di essere processato arrivato a questo punto. Facciano quello che vogliono. Oltretutto Rosario è molto triste veramente che siano delle donne poi a condurre questo tipo di video. È molto triste anche perché le donne dovrebbero anche capire che noi stiamo facendo quello che stiamo facendo anche nell'interesse dei bambini. Se queste donne hanno un bambino come fanno a guardarlo in faccia? Non si vergognano? Non si vergogna questo PM? La beccivese sulla stampa, quest'altra, la magistrata… Sì, ma poi l'abbiamo lavorato negli altri processi. Ma queste donne a cosa pensano? Io non lo so, ma ce l'hanno una coscienza. Si sorna del sesso gentile, le donne sono romantiche, questo e quello, ma se sono delle diavolenze. Ma come si fa a dare adito e dare seguito alle allucinazioni di personaggi come della schiava e far partire procedimenti vessatori e dittatoriali come questo? Io mi rifiuto di accettare una cosa del genere. Farò di tutto per spuntanare questa gente. Ricordiamo, ci tengo a ricordarlo, Rosario, perché sono tanto importante per te, per tuo fratello e anche per tua madre. Ricordiamo che tu sei figlio di un carabiliere, un carabiliere che viveva veramente nella giustizia. Un carabiliere vero. Tra l'altro nella pagina le scettimiche sono una cazzata dove veniamo screditati e diffamati in continuazione e dove sono pubblicate le fotografie dell'auto di mio fratello con tanto di targa e qui poi ho anche una bella nota da darti. Su quel canale c'è iscritto anche un carabiniere che si diverte anche lui a fare lo stupido. Capisci dove siamo arrivati? Ma hanno verificato anche le fotografie che avevo sulla macchina fotografica. C'era un'auto dove si vedeva la targa. Lei perché ha fotografato la targa di quest'auto. Dico, ma stiamo scherzando. E allora poi però, quando io e mio fratello abbiamo querelato i soliti personaggi, Migrelli e company, per aver pubblicato le foto della macchina di mio fratello, fotografata davanti a scuola e anche mentre guidava, il magistrato ha archiviato perché secondo lui il fatto non suscite. Allora la legge, come dico spesso, è disuguale per tutti. Per concludere, senti questo, che logicamente scrive in anonimato e con una mail anonima, Tracchino, logicamente loro chiamano me Tracchino, che ti avevo detto qualche mail fa che se non la smettevi di metterti, se non la smettevi ti mettevi man mano nei guai seri, come vedi i guai sono appena iniziati e vuoi sapere l'ultima? Ancora non hai visto niente, pagherai per tutte le cassate che hai scritto in questi anni, pagherai man mano per ogni calunnia, diffamazione e menzogna. Ora io questa mi piacerebbe mandarla al magistrato, no? L'ho mandata all'avvocato, ma so benissimo che l'avvocato non se ne farà niente di questa mail ennesima che gli mando, che è la dimostrazione che gli amici dei magistrati sono questi personaggi di qua. Ed è chiaro, io queste cose poi al magistrato le farò notare, se non lo farà l'avvocato lo farò io. Non c'è altro da dire, guarda, siamo ai livelli più bassi della civiltà e siamo ai livelli più bassi di questa pseudo-democrazia italiana che ormai è arrivata proprio a livello delle fogne. Ma non so chi ancora crede che siamo in una democrazia, veramente se è rimasto qualche imbecille isolato. No, volevo chiederti che cosa possiamo fare per dargli una mano, che cosa possiamo fare in assoluto insomma? Ma guarda, l'ideale sarebbe trovare un legale che affiancasse il nostro, fino a due legali si possano avere, un legale che oltre a avere la competenza, quello che manca ci vuole un legale con la grinta. Se c'è un legale con la grinta forse si risolve qualcosa. Se abbiamo davanti un legale che non vuole così inimicarsi il magistrato o che comunque pur lavorando onestamente non ci mette il diavolo e l'acqua santa, allora non se ne esce, non se ne esce. Qui bisogna veramente che ci sia un legale che abbia non solo a cuore la questione in generale, ma che sia anche con gli attributi giusti per poter reagire a sopplusi del genere, perché ripeto anche ammesso in un concetto che ci fosse una diffamazione, ma non c'è, se ci fosse stata sarebbe stata menzionata in qualche riga in questo dispositivo, ammesso che ci fosse una diffamazione non esiste un sequestro di materiale informatico per una diffamazione. Poi la diffamazione se avviene avviene in rete, quindi tu vai, prendi, fai uno screenshot del materiale, tu lo avrà mandato anche il querelante e tieni conto di quello, non è che io faccio una diffamazione e poi me la salvo, io salvo le diffamazioni che scrivono a me e poi le diffamazioni non le faccio. Se gestire i figli che si occupano di geoingegneria clandestina significa diffamare, allora vuol dire che è un reato d'opinione, allora ditelo chiaro che non si può più che l'articolo 21 l'abbiamo buttato nella spazzatura, adesso che lo sappiamo ce ne andiamo tutti fuori da questo paese del cazzo. Dicevo Rosario, mi pare che lo scopo sia stato ben scritto dal magistrato, in quale ha dato indicazione di andare a cercare altro, questo è chiaramente scritto nell'atto che tu leggeri prima, quindi mi pare evidente, sequestrate PC e altro ai Marcianò e altro materiale e andate a verificare su che cosa possiamo incastrarli, questa mi è sembrata un po' la filosofia di fondo di quello scritto del magistrato. Esatto, questa è veramente un'azione a delinquere, non è un'azione per la giustizia, ma è un'azione volta a incastrare un personaggio scomodo, però si ricordino bene che io non ci sto e quindi andiamo avanti, io e mio fratello non veniamo intimiditi da queste azioni, ma siamo ancora più cattivi e se fino ad ora anche sul consiglio di mio fratello sono stato buono e non ho fatto nomi e non ho fatto il cattivo come sono sempre stato abituato a fare nella mia vita, allora adesso vedranno che mi incazzo e allora farò nomi e cognomi di tutti quanti quelli che sono coinvolti in queste operazioni, perché molti soggetti che io ho identificato sono personaggi che sono all'interno della giustizia, se lo ricordino bene che io sono pronto a fare i nomi. Va bene, quindi questo non è un atto di giustizia, è un atto di forza intimidatorio e questo mi pare molto chiaro, fatto ripeto ancora con lo scopo di andare a verificare se possono incastrare i marciano in qualche modo, mi pare molto chiaro Rosario. A parte quello dell'avvocato, c'è qualcos'altro che si può fare di concreto Rosario? Mi dispiace doverlo chiedere, ma comunque ci servirà un aiuto perché comunque le spese purtroppo stanno diventando insostenibili. Perché l'altro modo che hanno di zittire è quello di sovraccaricarti di costi per difenderti. Paradossalmente la legge funziona così, se tu superi i 10 mila Euro non hai diritto al gratuito un patrocinio, ma se i processi diventano 3, 4, 5 come fai a gestirteli tutti? Non ce la faccio? Sì, è un modo per ambientare qualcuno scomoda, questo lo sappiamo, quindi la giustizia è una sorta di clava, il potere di soldi ne ha quanti ne vuole, quindi questa è un po' la sostanza. È una roba molto triste, molto triste, l'abbiamo detto, molto triste che sariamo da parte delle donne, molto triste che non riusciamo a unirci anche tra noi e che poche persone coraggiose come voi e come altri rischiano poi di rimanere isolati, ma stavolta non accadrà, stavolta non accadrà per pensare che già c'è un certo, come dire, ha creato veramente della rabbia, un senso profondo di ingiustizia quello che è accaduto, quindi Rosario andiamo avanti, non ci fermiamo. Non ci fermiamo, andiamo avanti, tanto i processi sono lunghi, quindi prima che loro finiscono noi li facciamo andare tutti in galera per genocidio. Eh, perché qua si tratta veramente di genocidio, ricorda che il genocidio non è una pluralità di omicidi, ma è proprio quello di eliminare una razza, una razza. Vabbè, vabbè, comunque grazie Rosario e mi auguro che la prossima volta ci sentiamo con notizia un tantino più positiva. Speriamo, grazie Elia, grazie a te, grazie. O io e anche la tua mamma ovviamente. Grazie, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.